Buongiorno a tutti ragazzi, sono Vincenza Moschetta e oggi sono qui per condividere con voi la mia esperienza nel mio breve periodo qui all'Inner Circle. Allora, innanzitutto volevo raccontarvi la mia storia e perché ho deciso di farne parte. Allora, io ho incontrato Francesco in un periodo in cui stavo effettivamente decidendo se questo era il lavoro giusto per me, stavo decidendo se ne valeva la pena continuare, stavo facendo le mie valutazioni. Poi ad un certo punto sui social ho trovato un suo video e mi sono detta che forse ne valeva la pena ascoltare. Ho fatto il corso gratuito che è da Francesco, dopodiché ho deciso che effettivamente forse poteva essere quel percorso che mi mancava, forse poteva essere quel valore aggiunto che io stavo cercando in tutti i modi di trovare, di aggiungere l'attività che comunque faccio quotidianamente. Ho deciso poi di iscrivermi, ho deciso di partecipare ed effettivamente il corso è stato e continua ad essere molto più utile di come immaginavo. Io non mi sarei mai immaginata di stare qui a fare dei video, a parlare dei video, anche perché essenzialmente sono ancora una persona che è molto riservata, una persona che non gli piace esporsi più di tanto. Però effettivamente per il lavoro che faccio e per quello che andrò a fare in futuro è lo step che ho dovuto superare e che mi sto impegnando a superare. Poi soprattutto nel gruppo ho trovato delle persone che mi supportano, ho trovato l'aiuto che mi mancava, quella cosa che effettivamente non c'è fuori. E ogni consulenza che si fa con Francesco, ogni volta che ho il modo di parlarne, di parlargli, è sempre un qualcosina in più che si va ad aggiungere. E quindi sono molto entusiasta del percorso che sto facendo e so già che raccoglierò in un futuro i miei primi risultati. Un bacio!